La buona notizia dell'avanzo di bilancio del Comune fa emergere l'altra faccia della medaglia, quella dei soldi non impiegati e delle opere non realizzate. Parte dal rendiconto illustrato dall'assessore Bertoli, l'affondo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, che annuncia in fase di discussione del bilancio numerosi emendamenti, laddove mancano delibere della Giunta, precisa il capogruppo Giovanni Barbo. In fase di rendiconto abbiamo deciso di astenerci proprio per dare un segnale di apertura alla maggioranza. Vedremo se questo segnale verrà raccolto. Noi riteniamo comunque che debbano essere ascoltate le proposte che portiamo, perché rappresentiamo dei cittadini e che le proposte che portiamo sono nell'interesse della città. Il consuntivo dà una fotografia statica della città, rincara Francesco Russo, mentre la virtù ora si misura nella capacità di spendere e di allestire cantieri certificati, aggiunge, riferendosi alla sua denuncia su possibili infiltrazioni mafiose in quello del tram di Opicina, come emergerebbe da indagini della Guardia di Finanza. La pressione fiscale non è aumentata, è vero, ma neppure diminuita. Si poteva fare di più, insiste il consigliere Luca Salvati, che mette nel mirino le mancate risposte su tanti lavori pubblici, galleria tram, piscina, aree verdi, ma anche sui temi del disagio giovanile e del commercio di vicinanza. E la collega Rosanna Pucci aggiunge i fondi mai spesi nell'edilizia scolastica e il flop della catalogazione dei libri di Margherita Hack, che avrebbe potuto gestire direttamente il personale qualificato interno, magari con un'integrazione nel settore cultura. Altre note dolenti sulle quali il PD intende fare pressing in consiglio sono strade e marciapiedi dissestati, opere mai realizzate come la fibra ottica, la piazza Sant'Antonio e il collegamento viario all'ospedale di Cattinara. Il rendiconto evidenzia una serie di lacune e di mancanze. Se ci sarà la volontà di prenderne atto, ne saremo ben felici e ci comporteremo di conseguenza.